Ok, buongiorno a tutti. A 500 avevo fatto uno speciale. A 21.000 ho voluto regalare a pitturare un appartamento gratis. Va bene, adesso siamo quasi in fase definitiva. A parte questo lo possiamo ricordare. Questo è un amico Raul. Grazie a tutti. Abbiamo fatto questo. Stiamo andando avanti ancora a mezzo al cantiere. Faccio questo. Sto a fare testimonianze. Dopo ho fatto pensare a dare altre parole. A più dire solo quello che è. Adesso fa l'isera. Grazie a tutti, Monica. Sala. E dopo qui faremo qualcosa. Qui siamo al cantiere alto. Allora, qui. Io lo faccio già in 21.000. C'è il 500 ho fatto lo speciale. A 21.000 non so come mettere il titolo. Però lo faccio. Però ringrazio anche voi. Grazie a voi. Alla pipal. Alla pipal. Voi irritate meglio. Non ringraziate me. Ma io sono io. Sì perché ringrazio. Questo era un piccolo cosiddetto per testimonianze. Puoi dire qualcosa. Non ti inquadro. Devi solo dire. Sì. 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 No. La verità. Non ti dici niente. È solo per far vedere la testimonianza. No. È tutto vero. Confermo. Adesso ci troviamo. Non dico la città. Perché non è giusto. Beh. La provincia. La provincia. Sì. Siamo in provincia. Ti lodi. Non c'è. Non c'è lo zingaro. Sono da solo. Perché conosco un po' di gente. Però ringrazio voi per la pipal che potete fare questi lavori. E altri che sono stati fatti. Questo è l'ultimo testimonianzo che posso darvi. Per il 21 mila. Non ho deciso una cameretta. Ma tutto un appartamento. Come sempre vi ringrazio. Vi saluto. Anzi. Vi dico un'altra cosa. Mi dispiace che ultimamente faccio fatica a rispondere. Ho problemi agli occhi. Devo portare gli occhiali. E siccome io sono un testone. Non li voglio portare. Mi fanno male sempre gli occhi. E faccio fatica a leggere. A parte il lavoro. Che adesso sono quasi le otto. Le sette e mezza. Qualcosa. Sono ancora qui. Andrò via fra mezz'ora. Adesso. Diciamo che viene dietro. La mia vita privata. E tutto il resto. Faccio fatica ultimamente. Però cercherò sempre di fare video. Questo è stato un video così. Come sempre vi ringrazio. Tutti. Veramente tutti. Dall'ereo. Maurizio. E tutti voi. Vi lascio come sempre la mia e-mail. Che è. Grazie a tutti. Al prossimo video.